Pierre Teilhard de Chardin, un grande paleontologo, un grande mistico, il suo nome per le labbra di un Papa non è stato mai pronunciato se non con Benedetto XVI perché anche lui è un mistico, anche lui è un amante della natura come lo era e quando è andato in Savoia, su Aosta, dinanzi allo spettacolo delle montagne imbiancate, così ha detto mi pare che qui potrebbero risuonare le grandi parole di Teilhard de Chardin, la messa sul mondo, tutto il mondo l'altare per l'eucaristico e insisto spesso con me e con i miei amici e dico guarda io sono stato anch'io bambino dalle scuole elementari e grazie a Dio la memoria mi rimane presente di tutti i successivi passi e stazioni che ho percorso nella mia vita in terza elementare ho avuto una maestra che aveva 17 anni perché allora le scuole magistrali superiori erano 4 anni, non 5 aveva ben 27 anni, era figlia di un fabbro ferraio, io sono veneto e come si usava anche tra di noi, si pensava che era figlia di un fabbro portare la serva aspirare ad essere diplomata, a fare la maestra ha consecrato tutta la sua vita alla scuola, all'azione cattolica femminile, alla sua famiglia era una santa autentica, è morta ultra novantenne anche lei, molto bella ricordo quando una bella carta geografica a colori, lo stivale che scriveva con la canna in mano le montagne, i fiumi, le città, le regioni e poi dava i dati che io sento come se fosse lei che me li detta adesso, l'Italia ha una superficie di 310 mila chilometri quadrati che come sapete sono diventati 300 mila, salati 302 quando abbiamo perso l'Istria a 35 milioni di abitanti eravamo allora, quando ero bambino io, però abbiamo anche territori d'oltre mare, la Libia, la Cirenaica, l'Eritrea, la Somalia, il Dodecaneso, 12 isole tra la capitale Rodi e per colmo di ironia lei diceva quello che erano i manuali di allora e abbiamo anche la concessione di Tianxi in Cina, 5 mila chilometri quadrati, dove c'era il famoso battaglione a San Marco chiamavamo concessione ciò che avevamo rubato sentite, la storia non è sola di questi giorni, è lunga e grande la storia ho detto appena adesso all'osservatore romano, gli ho fatto un'intervista, sia per la venuta del Papa nella vostra regione a Loreto, giovedì prossimo, sia per l'undici, ho detto guardi che Papa Giovanni non era un ingenuo, anzi diceva se dopo di me si fa diversamente, io ho obbedito alla mia coscienza, ho detto lo scriva questo, il vecchio Capovilla ha mandato a dire al Papa attuale che vengono da me anche vescovi, cardinali, devo dire il mango edificato delle loro fede e del servizio che svolgono, vengono tanti missionari e tante persone, mi domandano magari, non criticamente, ma come una domanda, se il Papa ha preso questa decisione, cosa direbbe il Papa Giovanni? Ha fatto questo documento, supponiamo una domanda, il Papa ha prolungato oltre misura il colloquio con i Lefebriani, è venuto incontro a loro in tutte le maniere, che cosa direbbe il Papa Giovanni? E io rispondo a tutti, niente, non è mica Papa lui, di Papa ce n'è uno solo, quello vivente, gli altri, tutti, tutti gli altri meritano rispetto, devozione, amore, gratitudine e poi tributare a loro tutte le lotte che vuoi, ma non è il Papa, non sei più tenuto a riferirti a lui, il Papa è uno solo e siccome Papa Giovanni nel suo stemma, il motto suo episcopale, ma che aveva conosciuto da ragazzo, da giovane studioso di storia, che è preso dal Cardinale Cesare Valorio, il padre della storiografia cristiana, cattolica, obbedienza et pax. Guardate che in tanti anni che sono stato con lui, sia da Cardinale sia da Papa, non ho mai sentito una critica rispetto a un Papa, oppure anche un personaggio della curia, e mi ha insegnato questo, alla tavola del mio vescovo, ha avuto un grande vescovo lui, un grande padre, che è morto a 57 anni di cancro come lui, stessa malattia, stesso percorso, stessa fine, alla tavola, quando si faceva, veniva fuori il nome il Papa, si telegava il giocchetto immediatamente. Se c'era da leggere, anche a tavola, va bene, un telegramma arrivato, non dal Papa direttamente, che i Papi non firmavano i telegrammi, nella schederia di Stato, si alzava in piedi, si alzava in piedi. Questa abitudine c'era anche in tutti i nostri congressi, il presidente del congresso diceva, leggiamo, il telegramma, non diceva, il segretario di Stato, il telegramma del Papa, tutti si alzavano in piedi, adesso siamo così screanzati che non lo facciamo più, non lo facciamo più, o meglio distratti, ecco vorrei dire, distratti, obbedienza e pace, è venuto una volta un prelato, vescovo, bravo, buono, retto, mi ricordo era un anno, 1954 a Venezia, dice, Eminenza, Roma è tutta piena di questo libro adesso, come in questo momento in Italia, del libro di quelle rivelazioni di cui si parla è un libro del genere, forse anche peggio, forse anche peggio, su Pio decimo secondo, dice, Eminenza, dice, se vuoi dare un'occhiata, qui ha detto, no, no, non è roba per me questo, ha fatto nessun commento. Quando è dato via quel prelato, mi ha detto, guarda, è bravo, sa, bravo, buono, fedele alla Santa Chiesa, ma sa, ha un po', l'abitudine alla romana, parlano così con leggerezza, se vuoi leggerlo tu, mi ha detto, io ho detto, il pedigiaia poi lo buttai via, è una cosa orrenda, tanto perché sappiate che le cose di oggi possono essere state anche ieri, obbedienza e pace, e arriva una parola da Roma di una congregazione, non ho mai sentito una critica. Se lui dissentiva, lo scriveva delicatamente, forse sarebbe da rivedere il modo di esprimersi che lui era sempre per il rispetto e per ciò che è positivo. Per tornare al richiamo di prima, Tegliare San Ben, va in Cina, mandato dai suoi superiori, dopo aver fatto la prima guerra mondiale, dunque ormai è passata la Trentina, nel 923. E dice, sono venuto qui, perché qui c'è una civiltà più antica di 2000 anni della greca latina, per rinfrescare alle sorgenti la mia fede. e spero di tornare poi a Parigi a spiegare che dobbiamo essere fedeli alla nostra vocazione cristiana. E quando noi consideriamo la Cina come un territorio di topi, con enorme disprezza, Tegliare San Ben dice, non si converte se non chi e ciò che si ama. Perché sembra che sia il testamento di Gesù questo. Quando Tegliare San Ben dice, no, la legge dell'incarnazione quale è? Dio, ma mi mandi i tuoi figli in mezzo a noi che siamo dei lazzaroni. La legge dell'incarnazione è discendere. Noi dobbiamo entrare in tutte le articolazioni del mondo, non per assimilarle, ma per divinizzarle, se è possibile. Perché solo così si scopre l'azione di Dio, che è l'azione che Dio fa nella natura. Ho detto, concludendo adesso l'intervista con l'osservatore romano, i miei occhi di carne, adesso poi nella stagione che va anche verso l'inverno, vedono il chicco di grano che buttato a terra muore. E non sono così sciocco da pretendere, ho seminato adesso, o fine ottobre, ho seminato adesso, a Natale mangerò il pane. E non devo rispettare le leggi della natura, la provvidenza di Dio. Devo aspettare giugno. Ma io che sono vecchio, anche voi potreste terminare la vita in 24 ore. Ma dico, io più di voi, chissà se arriverò io a giugno dell'anno 21. Però, se gli occhi di carne vedono ancora il chicco che muore, gli occhi della speranza vedono la spiga indorata dal sole. E proprio pensando al viaggio che farà il giovedì, ho interrogato e ho detto, senta, è stata una giornata straordinaria. Credo proprio finora è stata irripetibile. Nessuna preparazione. Non interpretate male quello che dico adesso. Nessun movimento si è appropriato il viaggio del Papa. È stato un viaggio della Chiesa cattolica nel suo insieme e dell'Italia, che con tutti i suoi difetti è un popolo buono. Quello che ho provato io, passando alla stazione di Terni, allora, con mai inteso anticomunismo, di disprezzo. Quanto mi dispiace se voi foste innamorati di certe persone. Perché voi vivete in questo tempo? Io l'abbiamo venuto in Italia, e lo facevo in nome, una grande donna, culturalmente superiore a me mille volte. La Oriana Fallaci, ma quanto odio ha diffuso nel mondo verso i musulmani. E con l'odio cosa facciamo? Guerre, distruzioni? Che cosa costruiamo? Guardate che anche nelle Marche, nelle parrocchie, se vi ricordo quando ero io, andavano matti per andare a vedere i film di Guaeschi. Una persona intelligente apre subito gli occhi. Quella è una strumentalizzazione politica. Quella non l'ama l'avversario. Ma Gesù Cristo ti ha detto, prega, ama i tuoi persecutori. Noi non li amiamo ancora. Con che coraggio diciamo, sono cristiano, se non imito Gesù mite e umile di cuore. Che razza di cristiano sono? Noi abbiamo seminato odio qualche volta. Ho sofferto tutta la mia vita per questo. Ricordo che ero un ragazzo di 15-16 anni, seminarista, e il parroco di Campania, buono, bravo, caritatevole, che presideva un piccolo paese di Campania, cenavo con lui alla sera e dopo facevamo due passi nel corso principale. e passavano i ragazzi e io, ciao Beppi, ciao Toni. Lui mi dà una sfida. Non devi salutare tu per prima. Sono loro che devono salutare per prima. Ecco questa aria di ex. Un'altra volta sento una bestemmia, detto da un povero carrettiere, un povero ignorante. Una bestemmia grave, si capisce. chiamano a lasciare i carabinieri e gli danno una multa. Perché allora, se non lo sapete, i signori, i padroni, anche adesso, sono disposti a dare soldini per metterci sotto i piedi. nel 1948 tutta Italia inneggiò per vittoria democristiana. Ma questo è un fatto politico però. Un prete in Italia, anche di lui si farà la causa di beatificazione, dopo averlo disprezzato. Primo Mazzolari, che scrive, contrariato da tutti, da tutti i suoi colleghi, non vorrei che questa vittoria fosse l'inizio della nostra sconfitta. Io sono niente in confronto a quello che era questo grande prete, quello che ha sofferto, le umiliazioni che ha avuto. per spiegare a voi giovani, questo primo Mazzolari aveva le tasche così grandi che poteva mettersi in tasca dieci cardinali e ce ne stavano altri due. Capite? Vissuto povero. C'è una frase nel suo testamento che ancora mi commuove perché io ho conosciuto lui, la sua famiglia, la sua sorella Giuseppina, che dopo aver trascorso tutta una vita a mio servizio, perciò a servizio della Chiesa, adesso rimarrà come un uccello che canta su un ramo spoglio d'inverno. Tutti abbiamo concorso ad aiutare. Io non sono primo Mazzolari, ma quando abbiamo trattato il famoso otto per mille anch'io ho pensato la stessa cosa. non vorrei che fosse l'imborghesimento del clero. Perché noi siamo usciti dal seminario e andavamo allo sbaraglio. Io vedo ancora con i miei occhi, da noi li chiamano capellani, li chiamano curati, con quel carrettino e l'aginello, andare alla cerca della legna, dell'uva, del grano, delle uova. Cioè, erano case dei poveri contadini che davano questo piccolo aiuto perché il cappellano veniva mantenuto in questa maniera. Il parco aveva la coseta, come si diceva? Il beneficio. No, la congola. Ma perché vi ho detto queste cose qui? Per dirvi le parole che il Vescovo di Papa Giovanni Morente gli ha detto. Papa Giovanni aveva 32 anni, era giovane, insegnava già in seminario, faceva anche il segretario e tante altre cose dell'azione cattolica, eccetera. Sul letto di mordere dice Don Angelo, ti raccomando, dillo ai ragazzi, che hanno tante vocazioni. Per fare il prete, bisogna pensare in grande. Vi rendete conto, come in questi anni recenti abbiamo tutto ridotto, fa finire che vogliamo ridurre anche la Chiesa a una piccola cosina dell'Italia, problemini di storie nostre così. Sì, per fare il prete bisogna pensare in grande e guardare alto e lontano. Ho detto adesso, spero che lo scrivano però. Papa Benedetto XV ha fatto una citazione che riguarda l'Italia recentemente, anzi, il 4 ottobre 2008, e l'ha fatto andando a restituire la visita a Giorgio Napolitano al Quirinale. Giorgio Napolitano ha fatto un discorso come Cornelio che ha impressionato così bene San Pietro, perché è un uomo onesto, perché è un uomo pulito. Lo chiamo, come chiamo tanti anni, uomo in ricerca. Non è un ateo, un uomo in ricerca. Sapete che nel groviglio di questi 160 anni e 50 anni e poco più, adesso 62, di Unione d'Italia, ci sono stati tanti dibattiti tra di noi, divisioni anche per motivi politici. hanno peccato loro, abbiamo peccato anche noi, o si parte di qua o rimaniamo paralizzati. Il Napolitano ha fatto un discorso tutte le volte che ha parlato dal Papa, in maniera sublime. Il Vaticano non ha mancato di riconoscere tutto questo. Sapete che l'ultimo compleanno del Papa è lui Napolitano che ha offerto un concerto, facendo venire una grande concertista, che mi pare ebreo tra le altre, hanno fatto a Castel Gandolfo una cosa stupenda. E poi l'hanno intervistato il Napolitano. Domanda, ma qualche volta neanche un Vescovo parla in questa maniera. Al discorso di Napolitano ha corrisposto un discorso stupendo del Papa, equilibrato, bene. Alla fine ha detto, signor Presidente, mi permette che citi un auspicio fatto dal mio predecessore, Giovanni XXIII, non in Vaticano, non in Quirinale, ma ad Assisi. Un 4 ottobre come questo, ha detto. Il 4 ottobre 1962, quando ha fatto una preghiera per la piccola città paradisiaca di Assisi. Ha fatto una preghiera, un auspicio per tutte le nazioni. in mezzo ci ha messo. E tu, diletta Italia, alle cui sponde per disposizione della provvidenza, è approdata la barca di Pietro e per questo motivo principalmente vengono a te uomini e donne di tutte le stirpi, di tutti i paesi, ospiti che tu sai accogliere. Dice Papa Giovanni, un estremo rispetto e amore possa compiere la tua missione universalistica. Se fossi stato accanto al Papa, ho detto stamattina, e ho detto santità, tante grazie di questa bella citazione del 4 ottobre 1962, però forse Papa Giovanni in quel momento era come in estasi lirica, perché purtroppo noi non li accogliamo con sommono rispetto e amore. E' stato seminato con tanta leggerezza, spero senza cattiva intenzione, è stato seminato con tanto grano che ha alterato la nostra coscienza e bacato la nostra sensibilità, perché la nostra gente, come ho detto, è buona, è buona. Quando ci siamo fermati a Terni la Rossa, ci era chiamata allora, nessuno aveva dato disposizione di passare il treno col Papa, nessuno. Spontaneamente gli operai non sono andati al lavoro, perché passava il padre. E allora, quello che ho visto allora, una cosa che ho sempre impressa qui dentro, e vivrà con me, anche in paradiso. E quello che ho visto in tutti gli altri paesi e città, deve suscitare in me e in tutti una domanda. Ma è questa l'Italia? Sì, questa è l'Italia! Questi sono gli italiani, questi sono i fedeli d'Italia. Nonostante che ci sia magari un po' di ignoranza, che ci sia un po' di superstizione al posto della regione, ma questa è. Allora li devi prendere come ti ha insegnato Gesù, mite e umile di cuore. Lascio qualche piccola cosa, se volete leggerla, evidentemente. E vi prego di non dimenticare, se possibile, poi la trasmetteranno. La giornata dell'apertura del Consiglio, anche lì mi ha domandato ma che cosa l'ha colpito di più? Lo spirito di raccoglimento e di preghiera. Migliaia e migliaia di donne e di uomini nei monasteri hanno fatto del mondo intero un unico cenacolo. Perché? Perché noi ascoltiamo la parola di Gesù. rivedetevi, prendetelo, accettatelo, questo benedetto Vangelo e credete al Vangelo. Per questo. Quando ho visto Papa Giovanni sulla predella, naturalmente è vero, senza lo giochetto in capo, senza la mitra, inginocchiato, come un ragazzo che in parrocchia disse le preghiere col suo parroco. davanti a tutta questa folla di duemila e cinquecento Vescovi, poi le rappresentanze dei fratelli e sorelle separate, di tutti i popoli, missioni speciali. Con voce aveva una voce incantevole e bella. Ego, Ioannes, ecclesiae, cattolice, episcopus, credo, in un Deo, un Patre monipotente, come il bambino e catechismo, ripeto con il suo parroco, tutto il credo, Niceno, Costantinopolitano. Poi legge la preghiera sublime che ha voluto mettere come inizio di tutte le adunanze conciliari, la preghiera allo Spirito Santo del VII Sinodo di Toledo, 633, non mille, non mille, 633. Anche questo è un momento di raccoglimento enorme. E' stato il suo discorso. Dico a voi, cari seminaristi, che un ragazzo di Modena, che ha 19 anni, in famiglia cristiana, ha fatto brillanti esami di maturità classica, scrive addirittura direttamente in latino, in greco, questo ragazzo. Ha fatto un commento su Gaudet Mater Ecclesia e io gli ho raccomandato, stai attento, Mattia, vada al vescovo a fargliela vedere, poiché sia un bravo professore del seminario che te la rivede, che mi dica un lavoro straordinario, degno di uno scrittore, di un filosofo, di un teologo. Questo ragazzo me l'ha portata qui e dopo mi venga di là che ne do una copia. Dopo mi do una copia. Perché lo faccio vedere ai ragazzi, sentite, sto ragazzo me l'ha portata perché diceva un signore oggi, sabato, settimana scorsa, lunedì, entro in seminario a Modena. Gaudet Mater Ecclesia, straordinario, guardate, penso, il Papa parla, per la verità, molto di più, parlo di Papi adesso, di quando ero ragazzo io. Durante il pontificato di Pio XII, tutto dicembre, faceva discorsi, perché c'era il radio messaggio natalizio, e questa è una cosa molto bella. Anch'io penso che mi dovrebbe fare un po' di silenzio e poi, anche Pio XII, anche il Papa Giovanni diceva che il Papa parla una volta. Dopo abbiamo cominciato. Ho trovato che abbiamo un po' abusato quel Papa. Noi, anche tutti. Quasi che fosse il nostro cappellano del mondo intero, no? E se il Papa parla una, due, tre, quattro, cinque, sei volte finisci che leggi i titoli e non leggi... Va bene, sì. E' per questo che, dico, guardate, è più importante nella giornata di aprirla del Concilio, sì, questa grande celebrazione, sì, l'atto di fede del Papa, sì, Gaudo e il Mater Ecclese, ma più importante il discorso che ha fatto la sera e che lui ha copiato perché non è suo. Perché quello gli ha ispirato direttamente parola per parola Gesù. E io l'ho raccontato tante volte. Il Papa aveva fatto il programma della giornata e sottoscritto. E c'era... E l'ultimo numero della giornata c'era ore 19.30, il Santo Padre, dal suo appartamento, si affaccia a salutare ancora una volta i padri e l'azione cattolica romana che ha preparato la grande fiaccolata ma anche il ricordo di Efeso, la divina maternità di Maria. Quando è l'ora, il segretario di Stato mi telefona e dice guardi che è tutto pronto, adesso accendono le fiaccole. Avverte il Santo Padre. Busco la porta, vi stava parlando con il segretario di Stato. Dice che c'è? E l'ora della benedizione? No, no. C'era dimenticata. Ho chiuso la giornata. Ho parlato anche a Luna, al balcone e li ho salutati. Ho detto il discorso, non è bene che il Papa parli un'altra volta. No, la benedizione? No, non lasciamo stare. Affacciarsi al balcone per farsi approvdire. No, va bene. Sapevo che si diceva no. E sono un grande letterato italiano e mi ha scritto al Museo Capovilla lei qualche volta adopera delle parole che ormai sono in disuso ma sono molto significative. Ho detto sono ricorso a una gherminella. Che sarebbe? Conoscevo un suo lato debole tutti li abbiamo. Era curioso lui. Era curioso. Se fosse stato stanco morto di una visita pastorale gli dico qui sopra c'è un quadro supponiamo, non so magari di un pittore suo bergamasco la stanchezza andava via per voler andarlo a vedere. Hai capito? Si fermava nelle chiese a leggere le lapidi era tutto contento quando a Venezia trovava una lapida con un nome bergamasco per dire le sue piccole gioie quando le domandavano ma quali sono i libri che lei legge per divertimento o per svaro i padri della chiesa capito? Allora sapendo questo gli ho detto non mi importa santo padre ho guardato io fuori guardi che la piazza è come incendiata come incendiata qua lui c'è centomila fiaccoli accese si alcia dal poltrono e va alla finestra guarda attraverso le tapparelle ha un pensiero non so cosa è passato ha detto si volte verso di me quasi severamente mettimi la stola mi metto la stola mi fa col dito do la benedizione ma non parlo eh non santo padre nessuno l'ha chiesto e va al balcone e va al balcone riesce questo quello che è passato col nome del discorso della luna o della carencia ai bambini io ho commentato molte volte questo discorso ho detto l'accenno alla luna è molto bello perché dice abbiamo celebrato una grande giornata di pace di pace lo ripeto poi dice guardate la luna lei in alto sembra essersi affrettata stasera per assistere anche lei a questo spettacolo che è la basilica vaticana che ha 400 anni la nuova se capisci l'attuale non l'aveva mai contemplato allora io dico bello però se voglio inebriarmi nella contemplazione della luna mi leggo il vostro marchigiano Leopardi dopo parla di una cosa ovvia bella sulle labbra del Papa mettiamo da parte ciò che divide e cerchiamo ciò che unisce beh parla delle famiglie parla della unione fede speranza carità poi fa il famoso richiamo ai bambini che ha toccato il cuore di milioni di fedeli cristiani o non cristiani ricordando che lui dice tutte tutte le volte che dico ti diceva il rosario intero tutti i quindici misteri allora no? quando arriva il terzo mistero gaudioso penso a tutti i bambini nati nelle 24 ore cattolici che siano o no perché quando nascono trovino accanto alla culla la preghiera del Papa ed è molto bello non è questa la chiave per capire l'uomo il prete no non è questa e quando lui vecchio e malato sa che è entrato già nell'ultimo tratto di strada pensa alla campagna da cui è uscito va bene pensa pensa ai suo papà ai suoi fratelli i suoi nipoti ancora chinati sulla terra le umiltà del suo piccolo paese e dice io tutti questi qua che sono qua davanti mi fai di venire io io sono il vecchio patriarca forse per esorcizzare un po' di compiacimento il prete dice sorelle e fratelli amici la mia persona conta niente domanda portatemi l'esempio di un altro grosso personaggio ecclesiastico laico che dice in un momento più grande della sua vita la mia persona conta niente è un fratello che parla a voi divenuto padre per la volontà di nostro signore ma paternità e fraternità è tutt'uno è grazia di Dio tutto tutto è grazia di Dio poi finisce dalla benedizione rientra mi guarda e dice andate bene e santo padre siamo tutti commossi e grati di quello che ha detto quando ho detto tutto è grazia sai a chi pensavo c'è anche un romanzo che finisce con queste parole il diario di un prato di campagna non deve ascoltare i miei consigli ma credo che se un giovane legge il diario di un prato di campagna ti farà bene non è un libro vecchio ma molto bene lasciamo stare dice pensavo a Teresa di Gesù bambino la quale una notte ha avuto un forte sbocco di sangue era tisica la povera infermiera si è perso d'anima si è agitata ma era notte erano chiuse già nella loro cella eccetera e tremava questa povera infermiera poi finalmente Teresa ha riaperto gli occhi il sorriso che ha detto è passato è passato e la infermiera dice oh Teresa come ho tremato che voi dovreste partire così senza ricevere l'eucaristia la santa unzione la benedizione papale perché era notte poi ne sei mica il telefono allora e Teresa con un sorriso sulla labbra dice ma se il papà Dio ha deciso così tutto è grazia tutto è grazia anche le contrarietà dunque anche le contrarietà tanti auguri che Signora vi accompagni per favore non dimenticatelo per fare il prete pensare in grande e guardare alto e lontano io non so la vostra provenienza ma domando ai ragazzi quando parlano tu per tu ma tu come mai ti sei deciso di farti prete qualcuno mi dice è l'azione cattolica io a Milano spesso il collegio liturgico perché qui è un'organizzazione straordinaria i cerimonieri sono tutti ragazzi universitari bravi un altro ti dice io vengo ne ho che tu come mai vengo dai focolarini vengo da CL domando subito il movimento che ha fatto del bene sì allora per tutta la vita dovevi essere grato di questo e ringraziare Dio di questo incontro però ricordati che suoi entrato nel seminario di Fermo se sarai incardinato supponiamo a Fermo quella è la tua chiesa tu sei un prete della diocese di Fermo con la sua storia la sua tradizione i suoi santi il suo popolo non dirai mai sei cielino no non è bello sono neocattucuminale no non vado mai in giro dire io sono terziario francescano lo sono sono felice di essere sono grato di essere stato aggregato a questa grande famiglia perché sono prete della chiesa romana sono stato prete della mia città di Venezia l'ho amata l'amo perduta a mente anche questa perché non posso nominarla senza commuovermi ama la tua terra e la tua gente umili poveri modesti peccatori amali questo è fare il prete questo è fare il prete e il seguito di una obbedienza o ci ha messo di suo perché Papa Giovanni mi ha insegnato questo quando mi ha chiamato a militare sono andato a Milano per l'alluogamento aveva fatto il militare già per la prima guerra mondiale e sono andato in quella che adesso è l'università cattolica a Sant'Ambrogio e lì c'era una gran confusione era il giorno dopo la dichiarazione di guerra non eravamo neanche organizzati ne abbiamo combinati siamo stati e e sente uno che gli dice senti un po' tu da dove vieni? da Bergamo vuoi andare a Bergamo? se dai al caporale che sta facendo dieci lire e ti arruola a Bergamo no non voglio scegliere io scrive nel suo diario dove andrò finirà la mia vita un campo di battaglia ma io non domando niente quelle 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 che sono le imbroglie di questi ultimi anni c'è stata una scuola di ladrocini nel nostro paese più che in altri paesi purtroppo io lo devo dire come la penso poi dopo ci viene uno un ufficiale dice sentite Bergamo è considerata città aperta nelle retrovie va bene e faremo città sanitaria apriremo 3, 4, 5 ospedali c'è qualcuno di voi che vorrebbe andare a Bergamo a me ho domande io sono di Bergamo e scrive con un piccolo tono ironico sono andato dal cardinale Ferrari che li conosceva già bene a prendere la benedizione gli ho detto che avevo risposto a questa chiamata in questa maniera mi ha lodato e il giorno dopo dice come se fossi un triunfatore a capo di un drappello di 15-20 ragazzi io ero l'unico prete del seminario che era stato arruolato e sono stato il primo a rientrare nel seminario e tutti loro hanno dovuto sloggiare perché l'hanno dichiarato l'ospedale militare ma Dio mi ha mandato non io non io e tutta la vita è stato un susseguirsi di obbedienza e te pax e ricordo quando il Papa Pio XII nel 57 gli fece chiedere la Monsignor dell'Acqua se sarebbe disposto ad accettare la congregazione dei Vescovi della Seara e Venezia e me l'ha mostrata subito e ha detto ho sentito un colpo al cuore se è volontà del Papa è andato in cappella ha pregato e poi ha chiamato al telefono Monsignor dell'Acqua che era stato il suo collaboratore Don Angelo dice Dio al Santo Padre che come è stato tutta la mia vita disponga però nel messaggio nelle lettere c'è scritto se accetterebbe cioè lo sottopone a un mio sì se è volontà del Papa è già accettato se invece chiede il mio parere se vuole lasciarmi morire a Venezia sono contento pensare in grande pensare da sacerdoti pensare da servi pensare sempre tutti anche nel nostro modo sentite di vestire di vacanze che ci prendiamo di arredamento di casa qualche cosa che denoti che non abbiamo uno spirito puramente mondano è stato qui un prete tempo fa bravo per Gamasco e dice non so Capovilla con i miei compagni siamo ancora un bel numero una trentina sì cioè ogni anno facciamo gli esercizi spirituali insieme ah beh sì sì il Vescovo lo sa ma siamo stati un anno all'Urd un anno a Fatima un anno a San Jacopo di Compostella un altro anno in Terra Santa un altro a Roma adesso abbiamo desiderio di andare al santuario di Guadalupe in Messico abbiamo fatto nessun commento e abbiamo parlato di quello che stavamo parlando quando è andato via ho detto senta durante tutta la nostra conversazione ho pensato a questo che lei mi ha detto per favore non lo dica a un modesto professionista a un operaio che lui risponderebbe io questo lusso non ve lo posso prendere dobbiamo stare molto attenti in questo molto siamo guardati qualche volta siamo anche criticati ingiustamente ma qualche volta lo meritiamo meritiamo come teniamo come viviamo come spendiamo poi mi sono domandato tante volte questo ma noi predichiamo la giornata supponiamo del seminario ma io prete do la mia offerta facciamo la giornata delle missioni domandiamo i fedeli con fervore ma io do la mia offerta guardate che a Loreto siccome sapevo le contrarietà di tanti ho detto quando escono quei cestini per andare prima vengono da me che sono nel faldistorio o che sono la poltrona quella che è e io per primo tiro fuori le mie bustine metto l'offerta ed allora tutti gli istituti religiosi hanno fatto la stessa cosa con semplicità direte dove vuole parare adesso non voglio solo dirvi che ho tanta gratitudine per la diocesi di Fermo perché quando sono andato a Loreto io non sono un esperto in economia e ho detto a Monsignor Benelli che l'ho risostituto bravo bravo un vero servitore della chiesa dice scelta dice quanto ha l'amministratore si scelga come vuole lei è Venezia no non sei un amico a Venezia no eccellenza siccome io sono stato nominato da santo padre non mi scelgo un mio amico degno di rispetto no se lo date voi e io il nome che voi mi fate lo nomino e lui mi ha detto nelle Marche abbiamo notizie molto buone belle dell'economo del seminario di Fermo non sapevo né nome né cognome lo nomino io lo nomino sono contento ma so come ne avete dato voi in omnibus et sempre obbedientia ete pax basta signor io scusa una domanda eh l'ispirazione del concilio in Giovanni XXIII è avvenuta nei tre mesi di pontificato oppure è nata anche prima che diventasse Papa no non aveva abitudine di dare consigli al Papa o ad altro diceva io sono qui faccio quello della Santa Sede mi decide però lei mi deve dire ma nel 1917 non era passati tanti anni non è stato promulgato un codice un codice che si chiama Piano Benedettino perché è stato fatto lavorato al tempo di Pio X nel Pio X è morto nel 14 e nel 17 è stato promulgato è promulgato Benedetto X V domando dice un capitolo a caratteri grossi un titolo De Concilio Ecumenico la mattina nella domanda dice ma è vero dice che ci sono stati dei contrari a questo non lo so perché se uno era contrario è pecca perché questo non l'ha inventato Papa Giovanni come se se uno uno strumento di governo uno strumento che serve soprattutto alla teologia pastorale è stato è codificato come potrei essere contrario se non lo faccio io lo farò un altro dobbiamo ricorrere il Coglio Ideo Canonico impone addirittura il sinodi provinciali il sinodi diocesani qualche volta passano i 20, 30, 40 anni situazioni che portano a questo per guerra ma però dobbiamo farlo è aggiornare quella disciplina quella legislazione che è utile per tutti il sinodo diocesano se il vescovo fa secondo le norme che sono state date lo fa sempre al termine della prima visita pastorale perché nella visita ha visto ha osservato ha fatto dei decreti quei decreti poi discussi ragionati ripuliti insieme con i suoi consultori va bene diventa una norma la legge sinodale per tutta la diocesi quando qualcuno dica beh ma sa qualche vescovo fa il dittatore comanda quello che vuole lo so ma peccatore può darsi che qualche vescovo anche sbagli perché c'è scritto però un canone che dice unus legislato sinodi episcopus non puoi colpevorizzare però a me sembra che non c'è vita pastorale di governo se non è collegiale ecco perché si fanno le adunanze presinodali le commissioni eccetera questa è una questa è una cosa che è la chiesa che il concilio è calare che vuol dire in latino essere chiamato allora per primo è chiamato il papa guarda che c'è questo strumento a tua disposizione se vuoi lo puoi rimandare dobbiamo dirlo anche più decimo secondo aveva pensato ma questo benedetto concilio vaticano primo è sospeso per aria da 80-90 anni vabbè ci avrei pensato anche più decimo primo io ho visto tutta questa documentazione questo è uno strumento ordinario non è straordinario è straordinario se fosse inventato allora lì per lì dico a tutti ma scusate ma prima del ventunesimo ce ne sono stati altri venti ma il primo impropriamente detto ma è un concilio di Gerusalemme con Pietro e Giacomo e Paolo e Barnaba e il 50 dopo Cristo siamo appena lì e gli altri chiederei a posto e gli dicono che c'è stata una lunga discussione non in quattro al quattro otto o autorettiva autorettiva ovviamente il Pio San Pietro facciamo così 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 alla fine ha trovato una bellissima fomone è piaciuto allo Spirito Santo e non a me a noi ecco la collegialità per lo meno in embrione io sento io sento che stiamo camminando che stiamo maturando lo sento tutto questo come qualche cosa che ha gradato a 30 40 50 70 anni io so che tu gli dici ma io non ci sono e cosa importa chi sei tu? un piccolo uomo chi ha una piccola parentese sei chiamato ad accettare da testimoniare è molto bello questo e ci rende anche molto umili se Dio ci aiuta auguri